Siamo qui con una delle colonne portanti del Perugio Social Film Festival Matteo Rulli il nome è una garanzia protagonista assoluto di due delle pellicole proiettate in questi giorni Matteo che ne pensi di questo festival? Bene, beh, basta Come basta? Matteo, ancora non è finito il festival Quando finisce? Finisce questa sera, che dobbiamo fare prima che finisce? I casali I casali e poi dopo che facciamo? L'intervista No, l'intervista la stiamo facendo adesso, dopo i casali che sappiamo? Lo spumante Lo spumante, esattamente No, non è festa di complejo No, non è di complejo, il brindisi finale Brindisi finale per salutare tutti Tutti Ma torniamo al festival, senti Matteo Ma tu che pensi, questo festival? Il prossimo anno lo dobbiamo rifare o no? Sì, sì, sì Allora ti è piaciuto? Sì Hai visto quanti attori, quanti registi sono venuti? Sì Ma 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 pure, certo, è stato qui Io, io non, no, a Orte no, mi fermo, mi fermo, no, a Orte no, 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 a Orte non ci si ferma, no A Orte non c'è mica niente di bello Ma è a Balanzano A Balanzano invece è proprio bellissimo No, Roma Senti Matteo, allora Un saluto al Perso Film Festival No Dai, dillo Un saluto al Perso Film Festival Al Perso Film Festival Al Perso Film Festival Bravissimo Matteo Ringraziamo il grande attore protagonista Matteo Rulli E insieme a lui vi diamo appuntamento all'anno prossimo Di ciao Matteo Di ciao Ciao Oh ma con questo diventi veramente famoso Veramente famoso Grazie a tutti